Benvenuto in questo nuovo tutorial. Oggi faremo qualcosa di davvero speciale. Ti guiderò passo dopo passo nella creazione di un mock-up. Ti mostrerò ogni fase del processo in maniera dettagliata, cosicché puoi seguirlo facilmente e replicare il mock-up da solo. Per rendere l'esperienza ancora più immersiva e permetterti di concentrarti al massimo, il video non sarà commentato. Preparati a immergerti completamente in questo processo creativo. Iniziamo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!